7 giorni TG Casa Mosè negli ultimi 12 mesi ha dato ospitalità a circa un centinaio di misna, i minori non accompagnati. Attualmente ci sono una ventina di ospiti, tutti in un'età compresa tra i 12 e i 16 anni, provenienti dai paesi africani più disparati, dal Ghana al Gambia. La struttura che ospita a Casa Mosè era di vita un tempo ad asilo ed è stata poi ceduta dalle suore immacolatine per sei anni all'AIB, un'organizzazione no profit, non governativa e che ha sede in tutta Italia. Assieme ai posti letto dei piccoli immigrati andranno in fumo i posti di lavoro delle educatrici assunte a tempo indeterminato. 7 giorni TG Proveranno domani a spiegare le loro ragioni davanti al GIP Maria Luisa Materia, le otto persone arrestate ieri dalla DIA nell'ambito dell'operazione Tecno che ha svelato i retroscena nascosti dietro l'appalto per la giudicazione del servizio di sorveglianza attrezzata sulle autostrade A18 e A20. A palto milionario povinto dalla grigentina Eurogest a svelare i meccanismi e legami che legavano gli otto arrestati tra funzionari del Cassa e imprenditori vari, fondamentali sono state le intercettazioni eseguite dagli uomini della DIA che hanno messo a nudo il sistema di favori tra imprenditori e funzionari del Consorzio Autostrade Siciliani. A far scattare l'indagine che ha portato ieri all'arresto degli otto indagati c'è un'intercettazione in cui gli investigatori ascoltano i progetti di Antonino Giordano, imprenditore che dopo il fallimento della propria azienda avrebbe tentato l'espansione di imprese a lui legate da cointeressenze economiche. Ed è proprio durante un colloquio telefonico con un collega che il 29 aprile Giordano discute con un imprenditore e spiega che ha intenzione di partecipare all'appalto per la sorveglianza e il soccorso da espletare lungo le tratte autostradali di competenza del Cassa, appalto che in precedenza si era giudicato l'avventura S.P.A. estromessa poi dal presidente della regione Crocetta. Come sottolineato ieri durante la conferenza stampa, proprio Giordano, quando il suo interlocutore gli chiede che competenze possegga per partecipare al bando, visto che non gestiva imprese che potevano occuparsi della sorveglianza autostradale, risponde candidamente sostenendo che pur in assenza di competenze specifiche si sarebbe procurato i titoli per partecipare all'appalto. Sono uno degli esempi che ieri hanno portato agli arresti e che, come ribadito dal procuratore Capoloforte e dai sostituti Ardita e Monaco, si tratta solo di un primo filone di indagini e la stanza con i documenti sigillati al Cassa e i documenti sequestrati ieri durante gli arresti promettono nuovi sviluppi. 7 giorni TG Il PD cambia faccia o almeno ci prova e lo fa ufficializzando i due primi organismi necessari per l'attuazione del programma di attività varato a settembre e mai avviato. A comunicare la composizione dei due nuovi organismi è stato il segretario provinciale dei democratici Basilio Ridolfo che ha affidato ad un comunicato poche parole per spiegare il lavoro che sta dietro la scelta dei componenti dei due nuovi organismi. A coronamento di un lavoro condotto nelle ultime settimane a stretto contatto e in armonia con tutte le componenti del PD di Messina, sono in grado di varare i primi due organismi necessari per l'attuazione di quel programma di attività predisposto dopo l'assemblea svoltasi nel Salone di Vie Castellammare nella prima decade del mese di settembre, in cui il segretario regionale Raciti, a termine di un ampio dibattito, ha respinto le mie dimissioni, spiega Ridolfo. Da quel giorno è iniziata una fase nuova che ha già trovato una larga piattaforma di interesse e di collaborazione che, sono certo, si svilupperà e si considererà maggiormente nel momento in cui inizieremo a svolgere le nostre normali funzioni politiche. A presiedere entrambi i coordinamenti sarà proprio il segretario provinciale, a leggere i nomi dei componenti però salta all'occhio che le facce siano bene o male sempre le stesse, soprattutto tra i membri di diritto sia del coordinamento provinciale quanto in quello cittadino.